Terminato da pochi minuti l'allenamento del mattino del Bitonto in questo quarto giorno di ritiro a Camerino siamo in compagnia di Francesco Palumbo classe 2001 Under. Come sta procedendo il lavoro del Bitonto qui in ritiro e come sta crescendo la condizione anche tua fisica personale? Buongiorno a tutti, come già ho avuto il mister l'anno scorso e ringrazio che mi ha richiamato anche quest'anno è stata per me la prima scelta. Il ritiro sta andando molto bene, stiamo riprendendo tutti la forma c'è un gruppo fantastico di ragazzi che ci sono dando giorno dopo giorno dei consigli e il mister ci sta trasmettendo il suo pensiero di gioco, lo trasmette a noi e noi ci mettiamo a piena disposizione. A proposito di mister, dove ti sta provando in questi primi giorni da un punto di vista tattico? Il mister mi sta provando esterno alto a destra, esterno alto a sinistra e molte volte proviamo anche il quarto e il quinto di centrocampo di fascia. È stata un'estate dove più squadre ti hanno cercato, anche squadre importanti, uno dei profili più importanti appunto della scorsa Serie D, ma hai scelto Bitonto e hai scelto di seguire il mister De Luca? Ho scelto Bitonto perché è una delle società più importanti di questa categoria e appena mi è arrivata la chiamata, la chiamata del mister non ci ho pensato due volte e sono venuto qui. Francesco Mariani, come procede il ritiro del Bitonto qui a Camerino in questo quarto giorno? Buongiorno a tutti, procede molto bene, ci stiamo allenando da quattro giorni e diciamo che questo è l'ambiente perfetto soprattutto per creare il gruppo che alla fine è la cosa essenziale per raggiungere degli obiettivi. Stiamo facendo sempre più squadra, lo si vede anche dagli allenamenti, dagli incorreggiamenti che ci diamo l'un l'altro e anche con il mister ci troviamo molto bene, speriamo di affrontare al meglio le gare che ci aspettano e unendosi sempre di più con gli altri. Il tuo ruolo quest'anno è particolare perché sei un under 2002 ma essendo confermato nonostante la tua giovane età devi fare quasi da consigliere con tutti gli altri under che sono arrivati nel gruppo squadra. Un po' di responsabilità o un ruolo che comunque ti fa piacere? Sì, sicuramente è anche un motivo per responsabilizzarmi meglio dato che comunque sono uno dei pochi che è rimasto l'anno scorso quanto riguarda il ruolo è differente perché mi sta provando a due a centrocampo rispetto all'anno scorso che giocavamo a tre penso che comunque un giocatore debba essere più duttile possibile quindi essere collocato in più ruoli in modo tale da essere più efficiente per la squadra piuttosto che al singolo.